Il chilometro partirà al passaggio sul traguardo e avrà cercato il quadro che è Emma, Emma in tempo, vediamo il primo riferimento, vediamo dal traguardo, 14, 12, 16, 445, eccoci il calcio, l'era a voi, ed eccola sul traguardo, si lancia, c'è una parte del tempo, il tempo da parte 16, 445 di Emma Trovo, eccola l'unima curva, 14, 15, 17, 105, Emma Griowski, eccoci il traguardo, la partenza del giro, fate il clonometro, 16 e 445 il tempo da battere che lo trovò atleta di casa vediamo la sua ultima curva 14 15 16 17 137 questa è la mia che sta con fuori e adesso è più una donna che si sta lanciando Giulia avanti 16 e 445 vai Giulia vai Giulia vai Giulia sulla pista di casa vai Giulia l'ultima curva vediamo 7 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.